Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, spero che state bene e che stai trascorrendo una splendida giornata. Allora, voi sapete che io porto, insomma, le schede di giocatori, parlo di Serie A e tutto quanto, ma a Las Verona cosa ti ho fatto di male? Cosa ti ho fatto di male? Voi sapete che io porto, appunto, queste presentazioni, ma è possibile che a Las Verona si concentri sempre sui polacchi, poi io devo portare il video e puntualmente mi devo incasinare con le pronunce? Ci sono tanti giocatori di tante nazionalità molto diverse, molto più semplici da pronunciare, no! Le Las Verona va sui polacchi! E vabbè, parliamo di questo giocatore, vale a dire, Katper Imiowek, suppongo che si pronunci così, giocatore appunto polacco dell'Elia Varsavia, terzino sinistro, classe 2003, prima però di andare a sviscerare la situazione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate a campione delle notifiche e ragazzi, soprattutto supportatemi perché voi non vi potete neanche immaginare lo sforzo che faccio per pronunciare questi piffero di nomi. Allora, chi è questo Katper Imiowek? Chi sa la pronuncia vera? Me lo faccio sapere qui sotto nei commenti perché, insomma, vabbè, un po' così. Terzino sinistro, classe 2003, della formazione Under-19 dell'Elia Varsavia. Appunto, Le Las Verona si è interessata al giocatore e sembra che in estate vi sia un ulteriore affondo. Un giocatore di 181 cm, terzino sinistro, di buona efficità perché ripete 181 cm, bello piazzato, soprattutto avevo di muscolatura, forte negli arti inferiori, un bel busto, bello, diciamo, sì, robusto, è il termine giusto per definirlo. Un difensore molto veloce, molto di scatto, bella corsa fluida, bravo anche in fase difensiva. Lui, soprattutto, gioca in un 4 e 3, in quanto, appunto, lei che è Varsavia, Under-19, adotta questo stile di gioco e quindi si è, appunto, abituato a fare questa doppia fase. Grandi tempi di inserimento e di sovrapposizione, soprattutto quando la palla viaggia sulla fascia opposta, lui si posiziona sempre in una seconda, barra, terza linea di intervento. Vale a dire, magari non si posiziona a limiti dell'area, magari non va in area, ovviamente, però si pone sempre su altri quarti campo, accentrato, in quanto, da quella posizione, quando dovesse ricevere palla, va a tiro. E infatti, nelle formazioni anche giovanili dell'Aiga Varsavia, non è stato assolutamente difficile vederlo tirare in porta. Ha un bel sinistro, bello secco, potente, calcia molto spesso di collo. L'unica cosa deve un pochino migliorare a livello di assist, perché lui non cerca tantissimo il fondo, in quanto è un quarto di difesa, non un quinto di sinistra. Raramente cerca al fondo, crossa più che altro da tre quarti campo, ma non ha ancora una precisione perfetta, quindi potrebbe veramente migliorare. È sicuramente molto utile, qualora poi, all'Elas Verona, dovesse arrivare in attacco in estate una vera punta. Bravo anche tecnicamente, c'è un bello stop, bella conduzione palla, sa proporsi e sa, in questo 4-3-3, formare, in modo molto intelligente, sfruttando appunto i tempi di inserimento di gioco, sfruttando appunto il triangolo che si va a comporre tra la mezza alla sinistra, lui sulla fascia, e magari l'esterno sinistro di attacco. Molto intelligente, molto abile appunto nella fase offensiva. Poi, ovviamente, il giocatore, personalmente, non lo conosco, e quindi, dato che la notizia è stata portata da radomosport.pl, quindi quotidiano, o comunque un sito polacco, mi sono un po' informato appunto sul giocatore, soprattutto, dato che lo conoscevo, però a livello ovviamente personale no. Quindi, fidandomi, diciamo, dei giornalisti di Radom Sport, viene presentato come un giocatore che è molto concentrato, molto focalizzato sull'obiettivo di giocare ad alti livelli. Quelli di Radom Sport hanno detto che addirittura della Sverona si era fatto avanti nella scorsa finestra di mercato, quindi già a gennaio. Poi non si è concretizzato niente, un po' il tutto, l'operazione è stata imbassita anche da Paolo Vicentini, quindi, insomma, non si è potuta portare a termine nel mese di gennaio. Un giocatore che è cresciuto calcisticamente nella Football Academy, li vediamo se la pronuncio bene, Dragovic, Jedlinsk, un'altra cosa del genere, poi è stato ciuto in prestito a Radomiak e poi è stato acquistato definitivamente dall'Eglia Varsavia. È definito appunto come un giocatore determinato che già dal settore giovanile mostrava interessanti qualità, soprattutto a livello di garra, a livello caratteriare. Quindi è amato da tutti, è stato amato da tutti i tecnici del settore giovanile e quindi, insomma, un giocatore che si è formato veramente bene con una mentalità molte volte anche tipica di quelle zone dell'Europa, quindi molto quadrata e focalizzata, diciamo così. A livello di gioco mi ricorda un altro terzino del Verona, vale a dire Federico Di Marco, in quanto se questi giocatori invece di Kacper-Imiovec si dovesse chiamare non lo so, Federico Di Marcovski non farebbe molta differenza nel senso che comunque fisicità quella, altezza più o meno quella, interpretazione di gioco quella. Comunque sarebbe molto utile sulla fascia sinistra della Sverona per un motivo, perché ad ora gioca Lazovic che non è proprio un tornante, lui è giocato anche alto in passato, è un adattato, in più c'è un Frabotta che comunque è infortunato, comunque non ha assolutamente resi in questa annata e comunque sicuramente ritornerà a Juventus, quindi quella fascia sinistra tenendo buono un Lazovic che comunque è un leader della squadra, un elemento come Imiovec potrebbe veramente essere interessante, ripeto perché ha lo stesso stile di gioco di Federico Di Marco, quindi offensivo di gamba di strappo di potenza un bel mancino abile in zona gol e qui comunque può anche molto migliorare se dovesse migliorare appunto in fase di cross e in fase di realizzazione ragazzi diventerebbe veramente un grandissimo prospetto ma contiamo sempre che stiamo parlando di un 2003 Federico Di Marco il 97 quindi ha ben sei anni in meno dell'attuale terzino-sinistro dell'Inter quindi sicuramente sul ragazzo il tecnico Wukash Kurek ha fatto veramente un grandissimo lavoro ci sta puntando penso che ci punterà per questi mesi e stiamo a vedere quello che succede a livello di prezzo ancora non si sa nulla si sa solo che una trattativa che si è formalmente aperta a gennaio non è ancora niente di concluso ma dovrebbe riaprirsi in vista dell'estate quindi già verso maggio-giugno prepariamoci eventualmente a rileggere il nome di Kacperimowek in orbita e la Sverona sarebbe un grandissimo colpo da parte di D'Amico è un direttore sportivo l'unica pecca di questo direttore sportivo che forse il discorso Kainic di attaccante poteva essere in modo diverso ma lasciamo perdere sta lavorando molto bene nessuno è perfetto e appunto se dovesse arrivare in Veneto Kacperimowek potrebbe essere soltanto contento e dopo l'acquisto di Pracelic grazie alla Sverona ancora ti voglio bene ovviamente se il video vi è piaciuto e vi è stato utile mi raccomando lasciate un like al video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina non mi resta che rinviatevi al prossimo video vi mando un abbraccione e appunto ci vediamo presto ciao ragazzi grazie a tutti